E allora vogliamo meditare insieme un poco su questa meravigliosa parte della lettera di Paolo ai Romani. Ma mentre poco fa chiedevamo allo Spirito Santo di venire tra di noi, veniva in mente che Lui è venuto ad abitare nei nostri cuori, siamo divenuti Tempio dello Spirito Santo. Lui abita nel nostro Spirito, certamente, ecco perché prima di venire lo Spirito Santo Dio ha dovuto darci uno Spirito nuovo, un cuore nuovo, perché credo che lo Spirito Santo si sarebbe trovato molto a disagio a vivere nei nostri sentimenti, nelle nostre emozioni, lo avremmo cacciato un momento, richiamato un altro, visto bene in un momento, allontanato in un altro momento. Come ci succede quando viviamo troppo dominati da quelli che sono i nostri sentimenti, le nostre emozioni? Non so se le vostre emozioni sono come le mie emozioni, penso di sì. Non so se vi siete resi conto come le emozioni ci fanno vedere un quadro non sempre costante della realtà. In un momento una cosa sembra bella, il momento dopo malediciamo il momento in cui abbiamo fatto una scelta. E allora dicevo lo Spirito Santo, ricordiamolo, è venuto ad abitare dentro questo Spirito nuovo, questo cuore nuovo, promessa di Dio fin dal vecchio patto. Metterò dentro di loro un cuore di carne, scriverò le mie leggi nei loro cuori. Ecco, lo Spirito Santo è venuto ad abitare nel nostro spirito, nel nostro cuore. E si trova molto bene, perché lo Spirito è qualcosa che Dio ha messo in noi. Ma quello che mi veniva in mente è, ma noi dove abitiamo? Lo Spirito Santo è venuto ad abitare nel nostro cuore. Il nostro problema è che abitiamo troppo nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti, nel nostro corpo. E non fraintendetemi, è chiaro che ognuno di voi abita nel proprio corpo. Stiamo attenti a quegli esperimenti di uscire fuori dal corpo, andare ad abitare. Questi sono esperimenti da demoni, che hanno questo desiderio di possedere il corpo di altre persone, per esprimere la loro personalità malefica. Certamente noi abitiamo nel nostro corpo, ma capitemi bene, se noi stiamo troppo identificati con il nostro corpo, noi moriamo con il nostro corpo, perché dopo i 30 anni le nostre cellule cominciano a invecchiare. Allora cominceremo a vivere in dipendenza dalla nostra artrosi, in dipendenza dai nostri dolori reumatici, in dipendenza dai movimenti del nostro stomaco o tutte le altre cose. E vi assicuro che diventeremo presto schiavi del nostro corpo. Oppure vivremo solamente con una consapevolezza emotiva. Vivremo nei nostri sentimenti e vi sembrerà strano, ma nei nostri sentimenti, nelle nostre emozioni non c'è un contatto reale con Dio. Questa può essere una cosa strana per qualcuno di noi, perché spesso noi abbiamo avuto un'esperienza di Dio più come cultura, come tradizione, come morale, mentre Dio vuole fare un'esperienza più profonda, e ha fatto un'esperienza più profonda con noi, con una conversione profonda, con una trasformazione interiore. E se ci fermiamo e abitiamo solamente nei nostri sentimenti, anche lì troveremo un... Paolo lo definisce, sempre nella lettera ai Romani, non in questo capitolo che vedremo assieme, ma definisce che quello a cui ha inclinazione, spinta la nostra mente carnale è morte. È strano, ma così come attraverso il peccato la morte è venuta nel mondo, quello che scopriamo nella nostra mente, in realtà, la verità umana, la verità dei sentimenti è morte. Ho morte a te, allora io aggredisco a te e paghi tu le conseguenze, e questo è più comune, no? Di solito preferiamo ammazzare gli altri, non nel senso fisico, ma penalizziamo, giudichiamo, critichiamo, ecco, è colpa tua, tu ci colpi, ecco, è lì botte, non nel senso fisico. Ho morte a me, allora l'aggressività espressa contro noi stessi. Ecco, se restiamo, ecco perché è importante il movimento dello spirito, il movimento carismatico, perché grazie a Dio ci porta in una dimensione diversa dai nostri pensieri per scoprire poi la volontà di Dio e per rinnovare i nostri pensieri, e questa sarà la prima parte dell'insegnamento che faremo, un rinnovamento della nostra mente, che è il desiderio più grande di Dio per la nostra vita. Ma se restiamo nella verità solamente della nostra mente non rinnovata, quello che riusciremo a provare più fortemente è un desiderio di morte o dell'altro, considerato come causa dei nostri malesseri. Da noi si dice picchi un mori, non si traduce in dialetto, non so come si dice da voi. No, dice perché non muori, ma quando muori, ecco, come se l'altro fosse colui che ci impedisce di respirare tante volte. Viviamo, e certamente ci sono delle persone che non rendono l'aria respirabile, questo c'è a parte, i problemi non sono quelli dei gas di scarico o dell'inquinamento, così, delle industrie. Purtroppo quello con cui ci stiamo inquinando è qualcosa di molto più profondo e sottile, quello con cui veniamo bombardati ogni giorno, un inquinamento morale, un inquinamento di tutti i generi. Ma dicevo, la verità dei nostri sentimenti sarà solamente morte a te o morte a me, e lì magari ci saranno problemi depressivi. E la seconda cosa che dice l'Apostolo Paolo, quella a cui ha in tendenza la nostra mente carnale, è inimicizia contro Dio. Cioè, non vi meravigliate che se rimanete solamente nella percezione dei sentimenti, delle emozioni, Dio come minimo vi sembrerà estraneo, quando non vi sembrerà nemico. Se noi rimaniamo nella percezione dei nostri sentimenti, ci sarà un momento in cui tutte quelle coperture, perché tante volte, sapete, ci hanno presentato un'immagine di Dio che ci fa paura, allora per la paura, sapete, uno si tiene sempre così, no? Ma poi quando finalmente supereremo le paure, ci accorgeremo che la nostra mente non vuole Dio. Non lo vuole, è nemica di Dio. Non che Dio è nemico nostro, non frantendetevi, ma la nostra mente è nemica di Dio. E se non scopriamo veramente quello che Dio ha fatto nel nostro cuore, arriveremo a un punto in cui ci sentiremo abbandonati, ci sentiremo nemici, penseremo che Dio ce l'ha persino con noi. E questo è un passaggio quasi obbligato spesso per i cristiani che vogliono crescere. Sembra strano, ma se voi siete persone che hanno detto al Signore io voglio crescere, e lì sono cominciati i veri guai. Un'altra volta ci dovete pensare prima di dire al Signore voglio crescere. Perché? Perché lì avete autorizzato lo Spirito Santo a mettere in evidenza tutti i falsi equilibri, tutta la santità appiccicata, non vera. Quindi tutta quella che era solamente una colorazione di amore, una colorazione di altruismo, era un colore così molto delicato. Ma quando avete detto Signore voglio crescere, vi siete accorti che dietro quel presunto altruismo, quel presunto essere la nostra vita al servizio di Dio, abbiamo scoperto che la legge della nostra mente voleva la nostra vita al servizio dell'io, non servizio di Dio, al servizio di noi stessi. Con un'unica differenza, vi sembrerà strano, che mentre chi non ha conosciuto Dio può apparentemente essere soddisfatto di condurre una vita al servizio di se stesso, si illude di essere soddisfatto, chi ha conosciuto Dio non potrà mai sentirsi appagato se vuole servire il proprio io. E questo è un punto fondamentale su cui già vi invito a riflettere. Voi che avete fatto un'esperienza di Dio, voi che avete detto a Gesù di essere il vostro Salvatore e il vostro Signore, mi dispiace per voi, ma non riuscirete più ad essere appagati soddisfacendo semplicemente le concupiscenze della carne. Mentre quelli che non hanno mangiato, ecco, è un esempio semplice, chi ha mangiato il cioccolato, poi il surrogato non gli piace più, chi ha mangiato il pecorino da noi, insomma, quando viene qua scopre il vero, la vera, e allora lì non lo mangia più e così via. Quando noi abbiamo scoperto una realtà profonda, non riusciremo, ecco perché l'esortazione di Dio è quella di vivere veramente nell'amore, nel servizio, perché non perché questo ci costerà, ma perché questo ci soddisferà veramente, ma ci arriveremo. Quindi dicevo, non meravigliatevi se nei vostri sentimenti, nella vostra mente, a un certo punto sono cadute le maschere e al di là di quello che poteva sembrare invece un desiderio di accoglienza, tutto quello che volete, sono venute fuori veramente della rabbia. Ah, dice, ma qua è così, ma così non mi conviene, ma Dio qua... Ecco, sono venuti dei calcoli umani, sono venuti dei ragionamenti in cui abbiamo fatto una valutazione, ci siamo fatti un calcolo e abbiamo visto che non conviene amare. Cioè perché ho detto, aspetta, amare uguale, ho sopportato questo, ho subito questo, mi hanno fatto questo. Scopriremo che non vale la pena amare, ma certamente se lo stiamo facendo con le nostre risorse umane è meglio che desistiamo perché non arriveremo molto oltre. Ma la cosa bella è che Dio esiste e l'opera di Dio esiste al di là dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti. E anche se quando siamo nei pensieri, nelle angosce, sapete, tante volte io credo che è difficile percepire Dio quando siamo presi dai nostri sentimenti. E solitamente noi diciamo sì, ma quando sono angosciato io grido a Dio. Sì, però gridi a Dio, ma non è facile che lo ascolti quando sei angosciato. Non so se vi succede. Proprio nei momenti in cui avete più paura, sono proprio i momenti in cui avete meno possibilità di percepire. E non perché Dio si è allontanato, perché Dio è magari ancora più vicino. Ma i nostri sentimenti ci impediscono. E voglio lasciarvi un'immagine di quando Gesù, come ha detto a ognuno di voi, ne sento subito un'applicazione, perché vedo che molti di voi sono come travagliati, presi per ora da una tempesta e non da quella che c'è fuori, da quella che è una pioggia che si può sopportare. Ricordate quando Gesù dice ai discepoli, ci vediamo all'altra riva, vi raggiungo dopo. Gli dà un itinerario, un cammino, dice andate. Loro cominciano a remare, poi cominciano i guai, cominciano le onde, cominciano le difficoltà, comincia a entrare acqua nella barca della tua vita e lì cominci ad avere un po' di paura, come a dire chissà se arriverò all'appuntamento con Gesù. Chissà se arriverò a svolgere il compito che lui mi ha dato. Lì l'ansia, la paura diventa grande, cercano di remare più forte, ma l'acqua è più grande. E a questo punto, se voi ricordate, succede qualcosa. Gesù li raggiunge sulle acque. Ma cosa succede? Quello che stavamo dicendo poco fa. Sono così angosciati, sono così impauriti, che Gesù gli sembra un fantasma. Ci mancava solo il fantasma. Non ci bastava la paura, la difficoltà stiamo affondando, ora c'è pure un fantasma. Mamma mia, che paura. Quindi doppia paura. Cosa significa? Significa che nel momento in cui sei preso da queste sensazioni, da queste tempeste, e Gesù viene in soccorso, tu non ti accorgi che c'è il pronto soccorso. Anzi, lo vedi come un estraneo. Ti sembra astratto, ti sembra distante. Ecco, il fantasma non solo è qualcosa che può fare paura, ma è qualcosa che è irreale, che non esiste. In quei momenti hai la sensazione che Gesù non c'è accanto alla tua vita. Quindi la paura si raddoppia. ma poi la misericordia di Dio interviene. E cosa fa Gesù? Comanda ai sentimenti, alle tempeste di fermarsi. E lì ancora una volta i discepoli si sconvolgono, cioè tre volte sconvolti per la tempesta, per il fantasma e di fronte al miracolo del fatto che Gesù ha questa capacità di cambiare le circostanze. E io credo che dobbiamo abituarci a questi tre tipi di sconvolgimento, però dobbiamo andare oltre, perché i discepoli stavano un po' imparando a conoscere Gesù, non avevano capito ancora la potenza di chi era accanto a loro. Eh, noi diciamo i discepoli, come se noi avessimo capito, non siamo molto diversi da Pietro, da Giacomo, da Giovanni. Sconvolti per le difficoltà, e questo forse è lo sconvolgimento più comune che abbiamo. Sconvolti dal fatto di non vedere Gesù, chiaramente, ma di vederlo come qualcuno che non ci aiuta, qualcuno che ci impaurisce perfino, qualcuno che ci è estraneo, che è astratto. E sconvolti poi quando miracolosamente tutte le tempeste che si sono create si fermano. E come dice, non è possibile. So se tante volte vi sconvolgete pure di fronte al miracolo. Ma l'opera di Dio va avanti e noi vogliamo cercare di comprendere come questa opera si sviluppa. La prima parte, quindi dicevo di questi brani meravigliosi dei romani, è quella definita del rinnovamento della mente. C'è un'esortazione bellissima di Paolo a presentare i nostri corpi come sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto, qualcuno dice spirituale, qualcun'altra traduzione dice razionale, non so la vostra versione come traduce, ma la cosa fondamentale è proprio questa. Nella vita cristiana ci accorgeremo che piano piano si sostituirà il dominio della nostra carne, che è quell'energia presente fino a che noi saremo su questo corpo e che ha certi desideri. Vi ricordate anche lo stesso apostolo Paolo quando parla dei desideri della carne? Ve lo ricordate? Celosie, contese, sette, invidie, eccetera, eccetera. La nostra carne fino all'ultimo momento della nostra vita avrà un potenziale negativo che chiaramente ci tenterà, si ergerà contro i desideri del nostro spirito. Ecco, quindi, se volete, il combattimento nel credente non è tra vecchia natura e nuova natura, perché chi è in Cristo è una nuova creatura. Spiritualmente siamo nuovi, ma abbiamo ancora una carne, un corpo, e questo corpo ha delle tendenze opposte a quelle del nostro spirito. E quindi saranno in conflitto. Il progetto di Dio non è che il nostro spirito serva alla nostra carne. E tante volte, sapete, ci tentiamo, vorremmo dare ordini carnali allo Spirito Santo. Spirito Santo, uccidi. Spirito Santo, fammi dominare gli altri. Spirito Santo, fammi vedere come sono, fai vedere a tutti come sono forte. Sono il più. Ecco, tante volte vorremmo dire allo Spirito Santo, suggerigli di soddisfare i nostri desideri carnali. Succede a tutti, non c'è niente di male. Cioè, succedeva ai discepoli, succedeva a Pietro, succedeva a Giacomo, a Giovanni, anche noi. E questa è una grande trappola, e voglio sottolinearla in particolare proprio per i movimenti carismatici. Sottolineate questo, il pericolo, la tentazione di usare il carisma, l'unzione che Dio ci ha dato per il nostro proprio uso, per il nostro egoismo, per i nostri desideri umani. Quindi di usare l'unzione di Dio, di usare il carisma, che è un dono spirituale, però volendolo controllare, asservire, volendolo usare, spinti dal nostro egoismo. Ora, non è che questo significa che il carisma non funziona, però non funzioniamo noi così, e certamente non cresciamo, e possiamo anche combinare un sacco di danni. Questo fu uno dei modi con cui il demonio attaccò Gesù, quello di cercare di fargli usare il suo potere per fare qualche cosa di dimostrativo, per fare vedere chi sei. Ecco, come dire, il mio carisma, ora faccio vedere a tutti che potenza di carisma che ho. Ecco, e allora il progetto di Dio, come qui è ben espresso dall'inizio di questo capitolo, è di presentare i nostri corpi in sacrificio vivente. E questa è una cosa importantissima. mortificate attraverso lo spirito, dirà l'Apostolo, gli atti della vostra carne. Però stiamo attenti, mortificate attraverso lo spirito, perché se li mortifichiamo solamente con l'autocontrollo, con la repressione, prima o poi vedremo che altro che mortificati rimangono veramente imbestialiti, e prima o poi verranno fuori con una potenza tale che ci spaventeremo. E allora il progetto di Dio è sì che facciamo un cammino in cui la nostra carne non sparisca, perché fino all'ultimo avremo le spinte della carne, ma la nostra carne sia messa in condizione di non danneggiare noi e gli altri. Poco fa abbiamo cantato quel canto sui nemici, ma io credo che i nemici peggiori di noi stessi siamo noi stessi. Non so se ci siete arrivati, perché solitamente all'inizio del cammino dice, eh quel fratello se non ci fosse quel fratello, anzi no, prima non si comincia dai fratelli. Se non ci fossero quelli del mondo, se non ci fossero gli increduli, si inizia da quelli più distanti. Poi si va restringendo e si dice, ah se non ci fossero gli altri gruppi, se non ci fossero le altre denominazioni. Poi si va restringendo, ah se non ci fosse quel fratello animatore lì, quella sorella lì, andremo molto meglio. Poi si restringe ancora se non ci fosse Giuliano, se non ci fosse... E poi alla fine ci accorgiamo che eliminando tutti il problema rimane sempre. Allora dice, ma come è questo fatto? Qua il nemico c'è sempre. Allora capiamo che i peggiori nemici, quelli che purtroppo spesso ci impediamo di vivere una vita di benedizione per noi stessi e per gli altri, siamo noi stessi. E quando ce ne accorgiamo, spesso questo può corrispondere anche a una crisi in cui diciamo non me l'aspettavo da me, da quello sì, da Giuliano me lo poteva aspettare, da Alessandro sì, magari me l'aspettavo che... ma da me non me l'aspettavo che sarei stato così cattivo, così assurdo, così perverso. E proprio lì potremmo essere tentati dall'entrare in depressione, dal autocommiserarci, ma proprio lì Dio vuole iniziare un processo di guarigione più profondo per la tua vita, per la mia vita. Un processo di guarigione che inizia con un consiglio che Gesù disse ai suoi discepoli, ma voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici. Cioè, amate voi stessi. Stiamo attenti, però non è che significa di amare il male, perché il nemico per eccellenza è il diavolo, e non penso che nessuno di voi voglia amare il diavolo, no? Ma è di amare nonostante, quindi non è amare il male. Dio non ama noi in quanto è contento quando siamo suoi nemici, no, ma ci ama nonostante, ogni tanto siamo nemici della sua volontà, nemici del suo progetto. Tante volte noi ci... Dio ci ha chiamato a essere collaboratori del suo progetto, però io ho l'impressione che noi vorremmo che lui collaborasse con il nostro progetto. Non so se vi siete mai reso conto. Signore, io ho un progettino che fa, mi ci metti la firma, ma sai, ti conviene, ti conviene. Quante volte facciamo delle proposte a Dio di avvallare i nostri progetti? Io avrei progettato questo lavoretto così, volevo fare una cosa spirituale, signore, naturalmente, però vorrei che tu... E tante volte alla fine poi facciamo buchi nell'acqua, ma Dio non ci ha messo la sua firma. Allora abbiamo bisogno di comprendere cosa significa essere collaboratori di Dio. E quindi non vi conformate a questo secolo, ma siate trasformati attraverso il rinnovamento della vostra mente. Questo è il progetto di Dio per la nostra vita. Essere trasformati. E Dio ci crede che può succedere. Noi, sapete, come cristiani siamo gli unici che possiamo non bleffare con noi stessi. Tutte le altre persone devono per forza recitare per stare bene. E anche noi ogni tanto pensiamo che recitando possiamo stare bene. Ma come credenti siamo gli unici che hanno questa possibilità di essere trasformati veramente, profondamente. Ed è qualche cosa di bello, sapete, perché noi non sappiamo spesso come farci del bene. Ma Dio sa come farci del bene. Noi tante volte nel tentativo di farci del bene, facciamo del male a noi e agli altri. Dici, ma io l'ho fatto per il mio bene. Eh, zappate sui piedi. Ma io l'ho fatto per dimostrare, io l'ho fatto per seguire. Quante volte facciamo e portiamo avanti delle rivendicazioni, facciamo delle battaglie che sono perse in partenza. Secondo noi lo facciamo per il nostro bene. E alla fine non otteniamo il nostro bene. Dio vuole farci comprendere. In questa riflessione che faremo, Dio ci farà comprendere come fare le cose che ci fanno bene. Può sembrare strano. Come amare noi stessi. Dio ci vuole fare fare un corso di egoismo spirituale. Capitemi, perché noi tante volte ci amiamo nella maniera sbagliata, ci amiamo nella maniera narcisistica, ma non ci facciamo del bene. Ci amiamo nel senso dell'orgoglio, ma non stiamo bene. Ci amiamo nel senso di aspettarci sempre, di dover essere messi. E allora quando stiamo in un posto, anziché guardare quello che succede, notiamo eh, vediamo se mi salutano, vediamo se si ricordano di me, vediamo se mi danno la parola, vediamo se... Tutti i nostri interessi sono legati a vedere se qualcuno ci dà valore. Ma Dio ci dice che lo abbiamo il valore. E invece noi tante volte lo cerchiamo sempre dagli altri. E allora certamente quando l'altro magari si è dimenticato di salutarci, diventa un dramma in tre atti. E di quello riusciamo... Certamente poi il demonio è uno strumentalizzatore di queste gaffe, di questi malintesi, di queste situazioni. Non mi ha salutato. E lì, certamente poi tutte le situazioni interiori cominciano a elaborare. Ecco, sicuramente non mi ha salutato perché... Perché? 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 E lì, abbiamo un suggeritore che ci dà tutte le motivazioni. Perché quella volta lì tu non hai fatto quello che lui aveva detto, non hai telefonato, non hai portato... E lì sembra strano, sembra buffo, ma dà una mancanza tante volte di un saluto. Cioè si può costruire una montagna di risentimento. E alla fine vi sembrerà strano, ma ci sono tante persone che solamente perché non sono state salutate una volta hanno lasciato i gruppi. Sembra strano, certo. Tante volte è bene magari che i responsabili abbiano una cura di salutare, però capite, anche i responsabili sono umani, sono distratti, quindi possono anche dimenticare. Però vedete un poco come tante volte siamo così motivati in maniera umana, che basta che qualcuno non ci ha dato una caramella per rinunziare di andare al ristorante. Perché poi alla fine è assurdo, ma è il male quando noi decidiamo di disertare, di allontanarci. Il male non lo facciamo agli altri. Anzi, in un certo senso hanno meno impegno, hanno meno... ma lo facciamo a noi stessi. È come se io dicessi, siccome a casa mia oggi hanno preparato qualcosa che non mi piace, io non mangerò più a casa mia. E non so se ci sono dei mariti che sono così esigenti, che dicono, moglie, mi hai preparato una cosa così schifosa che da oggi in poi mangerò al ristorante. Sarebbe assurdo. Eppure tante volte noi siamo assurdi. Ma lo Spirito Santo proprio per questo ci chiede di essere trasformati attraverso il rinnovamento della nostra mente. Trasformati. La parola greca dice trasfigurati. Attraverso la metamorfosi. E non le metamorfosi caffiane, dove veramente una cosa brutta diventa ancora una cosa più orrida. Tante volte noi siamo abituati alle metamorfosi negative. Cioè noi vediamo le persone normali e si trasformano in uomini lupo o non so quali altri mostri strani. O lo vediamo anche nella realtà. Persone tranquille, gentili, che a un certo punto gli vengono in cinque minuti. Anche noi tante volte, crisi isteriche o cose del genere. Noi siamo abituati alle trasformazioni di male in peggio. Da questa situazione Dio vuole generare qualche cosa di nuovo. La fine è meglio del principio. Se noi crediamo, se noi restiamo a scuola. È drammatico, fratelli, quello che io osservo nei gruppi, che osservo tra i responsabili è proprio questo. Si scrivono tutti quanti ai corsi di amore di Dio. Ecco, non c'è un corso scritto, ma iniziamo tutti il cammino. E poi, quando proprio arriviamo al punto dove dovrebbero cominciare veramente le benedizioni, dovremmo raccogliere il frutto, ci tiriamo indietro. È strano, ma come? E questo è un'esortazione che voglio ancora darvi in questo momento. È di non preoccuparvi perché le benedizioni più grandi vengono proprio dopo i momenti di crisi, di sconvolgimento, di travaglio, di tormento più grande. La quiete dopo la tempesta, la pace dopo il conflitto. Quindi non guardare il conflitto, la tensione, lo scoraggiamento, le paure, le difficoltà. Ma guarda lì dove lo Spirito Santo sta cercando di portarti. Perché? Perché qui l'Apostolo Paolo lo chiarisce subito. Abbiamo bisogno di essere rinnovati per conoscere per esperienza quale sia la buona, accettevole, perfetta volontà di Dio. Abbiamo bisogno di conoscerlo per esperienza, non per teoria. Sapete, noi abbiamo un'idea, un'immagine. Ognuno di voi ha una fantasia. E noi già immaginiamo come possono andare le cose. Non so se poi vi capita che le cose vanno sempre diversamente da come le avete immaginate. Ora dicevo, quello mi inviterà. I nostri calcoli, tante volte la nostra immaginazione sempre progetta delle cose che non sono vere. E noi tante volte ci siamo fatti un'immagine di come essere. E probabilmente in questa immagine che ci siamo costruiti c'è l'influenza di tutte le frustrazioni che abbiamo avuto, delle paure, dei giudizi, delle critiche. Allora, quando noi immaginiamo cosa significa essere cristiani, noi immaginiamo forse in una maniera diversa da come Dio immagina. E noi cerchiamo di arrivare in situazioni dove Dio forse non vuole che arriviamo. non entriamo in un'esperienza della volontà di Dio, ma noi entriamo in una fantasia della volontà di Dio. Certo è più facile entrare nella fantasia della volontà di Dio. I discepoli c'entravano sempre. Signore, fai cadere fuoco dal cielo per quelli che sono diversi da noi. Signore, ci sono quelli che cacciano demoni, però non ci seguono, cioè non stanno con noi, lo fanno per conto loro. Che fa? Glielo impediamo di cacciare i demoni. Signore, che fa? Gli tagliamo la testa a questi cattivi. Eccetera, eccetera. La loro fantasia li portava signore, vogliamo essere una destra e una sinistra. Anzi, questa era una mamma che lo chiedeva per i loro figli, per i suoi figli. I miei figli, una destra e una sinistra. Ministro degli interni, ministro del portafoglio. Quante fantasie! Signore, sei venuto a ricostruire il regno! Il mio regno non è di questo mondo. E allora c'è un momento in cui noi siamo delusi e diciamo che è razza di esperienza della volontà di Dio. Ma questo avviene perché non ci siamo lasciati trasformare dallo Spirito Santo. Perché se tu ti lasci trasformare, se io mi lascio trasformare, se guarisco da certi traumi, se guarisco da certe problematiche, se guarisco dal risentimento, dalla paura, allora entro in una esperienza della volontà di Dio. Non in una fantasia, ma in un'esperienza. E conosco qual è la buona, la accettevole, la perfetta volontà di Dio. È chiaro questo concetto. Tante volte diciamo, Signore, qual è la volontà Tua per me? E là già immaginiamo, è forse la volontà di Dio che io sia responsabile di qua, di là, che abbia il ministero di quello, di quell'altro che vada in questo gruppo, in questo posto, in quell'altro posto. E tante volte però succede che in qualunque posto andiamo facciamo sempre danno, perché non siamo cambiati, non siamo rinnovati. Io l'ho visto spesso nella mia vita. Questo all'inizio il mio interrogativo era grande. Signore, ti prego, fammi capire dove devo trovarmi per fare la Tua volontà. E io però il dove non è che lo comprendevo. Io pensavo dove nel senso di quale responsabilità, quale mansione, quale incarico, quale lavoro, quale carisma, quale... Poi ci è voluto un po' di tempo per accorgermi che il dove era abitare nei Suoi pensieri, nei Suoi sentimenti, cominciare a scoprire i sentimenti, la mente di Cristo. Lì mi ha portato, piano piano, a essere nella Sua volontà, a conoscere per esperienza la volontà. Ecco, e questo è lo stesso per ognuno di noi. Se non veniamo guariti, noi non riusciremo a fare un'esperienza della volontà di Dio. Saremo gli eterni insoddisfatti e avremo sempre qualcuno con cui prendercela. O il fratello, la sorella, il responsabile, eccetera, eccetera, il parroco, il vescovo, eccetera, eccetera. Dio, tutti quanti c'è. E diremo Signore, non è possibile fare la Tua volontà. È certo. E il Signore ci dirà, certo che non è possibile, perché se tu la cerchi di fare con i tuoi sentimenti umani, se tu la cerchi di fare, spinto dal tuo orgoglio, se tu la cerchi di fare, spinto dal tuo desiderio di affermazione, spinto da tutte le spinte umane, come fai a fare la mia volontà? Almeno di che fai la Tua volontà, sii più coerente. Infatti Dio tante volte preferisce che noi chiamiamo le cose col loro nome, che non spiritualizziamo le nostre carnalità. Non diciamo, Giuliano, fatti più in là che io sono più santo di te. Spostati. E tante volte questo sembrerà strano, ma dà disturbo a Dio. Che lo facciamo in nome della spiritualità. Magari se lo facessimo in nome della mafia, certo, questo non farebbe piacere a Dio, sicuramente. Però almeno farebbe chiaro che noi stiamo facendo una cosa demoniaca. Se diciamo, Giuliano, levati perché sennò ti sparo. Ma io mi dice, mamma mia. Ma se lo diciamo in maniera spirituale è ancora più subdolo. Luciano, levati perché sennò faremo scendere fuoco dal cielo. In nome di Dio, naturalmente. Giuliano, stai attento. Mauro, stai attento. Ognuno di noi. Tante volte abbiamo bisogno di chiamare le cose con il loro nome. Dio ci vuole portare in un'esperienza della sua volontà. E quindi, subito connesso a questo discorso, c'è il concetto equilibrato che abbiamo bisogno di avere di ognuno di noi. Infatti dice subito dopo Apostolo Paolo e quindi abbiate un concetto equilibrato, sobrio di voi stessi, secondo la misura di che cosa? Del vostro orgoglio? No, perché là abbiamo un concetto smisurato di noi stessi. Secondo la misura di che cosa? Del vostro solamente impegno? Neanche. Perché tante volte potremmo fare anche un impegno inutile, spregare un sacco di fatiche per niente, ma secondo la misura della vostra fede. E questo è un concetto importantissimo. Fede. E non fede nel senso astratto, perché lì anche i demoni credono e tremano. Non è questo che ci differenzia, ma fede operante attraverso l'amore. Fede che ci permette di essere rinnovati. Fede che ci permette di tenere i nostri corpi come strumenti di giustizia, come sacrificio accettevole a Dio. Fede che ci permette di guardare non secondo l'ottica umana, perché secondo l'ottica umana noi diremmo fatti più in là perché io voglio essere più grande di te. Ma Gesù l'unica volta che disse fatti più in là, fatevi più in là, lo disse perché voleva prendere il nostro posto in croce. E nessuno di noi credo che vorrebbe dire questo. Fatti più in là che io pago per te. Mamma mia. Non so se avete incontrato tante persone nella vita, nella vostra esperienza, che vi hanno detto così. Levati, ci penso io, no ci penso io, a fregarti, ci penso io, a dominarci, ci penso io, a soffrire al tuo posto. Ci penso io, a pagare per te, ci penso io, a saldare il tuo debito, ci penso io, a curarti, visto che i ladroni ti hanno picchiato. Non credo che nella nostra vita abbiamo tante volte incontrato dei samaritani, buon samaritano, dice, ma forse abbiamo incontrato delle persone che hanno approfittato dei nostri momenti di debolezza, hanno dato dei calci quando stavamo peggio. Ma Dio non è così. E Dio vuole insegnarci ad essere dei samaritani. E per farlo vuole che impariamo proprio a rinnovarci, a cambiare i nostri pensieri, a rinnovare i nostri sentimenti, a scoprire proprio questa esperienza della volontà di Dio, ad avere un concetto equilibrato della nostra, dell'immagine di noi stessi, secondo la misura della fede. Misura che naturalmente può anche crescere, perché se tu hai una fede così piccola, la puoi esercitare, si può sviluppare, può crescere. Ognuno abbia un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha assegnato. E lì poi inizia tutto un concetto che vedremo meglio in seguito, del senso del corpo. Ecco perché Dio ci ha fatto in maniera tale da inserirci in un contesto, di farci funzionare in un corpo. E lì chiaramente tutte le funzioni del corpo hanno bisogno di cooperare assieme. Che ne pensate del mio fegato che a un certo punto comincia a dire io faccio sciopero? Basta, tutti quei tossici che mi mangi, tutto quel maiale che ti mangi, tutto quel salame, basta, io non lo neutralizzo più, per me puoi morire. Oh, ma veramente muore il corpo, se il mio fegato si rifiuta di funzionare. Altro che, è così ogni altro organo del nostro corpo. Quindi, tenete conto, nella dimensione del nostro rapporto con Dio c'è una dimensione personale. Ed è vero. Ognuno ha il suo Gesù. Gesù è il mio Salvatore. Il mio Signore. Un rapporto, certamente, che prima di essere orizzontale e verticale, ma subito dopo diventa orizzontale, perché non è possibile, perché il Signore non è solo mio, ma è anche dei miei fratelli. Il Salvatore non è solo il mio, e gli faccio fare quello che dico io, questo è sottinteso tante volte, no, ma è il Salvatore di tutti i miei fratelli. Allora, lì, lì Dio ha fatto qualcosa di incredibile. Lì Dio sta facendo degli esperimenti. che sono quelli di farci funzionare assieme. E ce ne vuole veramente di miracolo. Molto più grande, questo miracolo di una guarigione fisica. Molto più grande. Perché? Perché voi sapete bene che il corpo può funzionare solamente se è unito dall'amore. che le membra hanno le una per le altre. Immaginatevi che nel mio corpo ci fosse un disinteresse e allora, come dire, mi viene un prurito qua e la mano dice no, ma io che vi vado a grattare là. Ma puoi stare fresco. Se vuoi, grattati con la testa. Ma non ci arrivo. Allora, guardate, il corpo è solamente un organismo umano ma dove già c'è un senso di cooperazione in cui tutte le membra tutte le prendono un atteggiamento vicario di servizio gli uni alle altri. Persino oggi si è scoperto che tutto il corpo, persino dolori strani alla schiena possono venire per una difettosa articolazione della mandibola. Cioè, uno mastica in una maniera sbagliata tutto il corpo si cerca di compensare. Naturalmente assume tutto un atteggiamento in relazione a un atteggiamento sbagliato della nostra masticazione. Cioè, tutto il corpo funziona in una maniera tale. Se io ho degli atteggiamenti viziosi in un senso non è che ne risentirà solamente un membro ma ne risenterà tutta l'economia del corpo. Ecco perché è importante funzionare assieme ecco perché è importante essere rinnovati perché se no noi il corpo non lo facciamo funzionare nella pratica. E questo è il dramma perché Dio ci ha uniti già nella dimensione spirituale però ci sta dicendo imparatelo nella dimensione vera, pratica. Cioè, non lasciatelo come una bellissima realtà spirituale dice, siete stati tutti inseriti in uno stesso corpo. E tutti diciamo ma alleluia e intanto stiamo dando calci ai nostri gomiti o no alleluia sì gloria a Dio siamo una stessa cosa ma abbiamo bisogno di imparare a viverla nella realtà pratica nelle relazioni nei rapporti che ne pensate se io a un certo punto perché la mia mano ha fatto uno sbaglio e si è bruciata io cominciassi a odiare la mia mano e gli direi mannaggia mano io ti taglierei cioè non solo si è bruciata ma pure la vogliamo tagliare e tante volte facciamo così è strano ci sono quelli che quando li punge una zanzara riescono a fare tanto che si fanno venire pure un ascesso cioè non basta la puntura della zanzara ma cominciano a grattare a fare a tormentarsi a tal punto che anziché curare il danno che si è creato in un membro riescono a estendere il danno e noi siamo così ma Dio vuole che impariamo a curarci gli uni degli altri con i ruoli diversi con i carismi diversi con i ministeri diversi con le funzioni diverse come d'altronde il corpo ha funzioni diverse ma con una cooperazione perché se no non sembreremo un corpo sembreremo un mostro e tante volte purtroppo diamo questa impressione e il mondo tante volte non si converte proprio perché non vede questo amore ma vede come sapete quei corpi di quelle persone che non hanno un controllo molto diretto dal cervello diciamo dei problemi organici per cui una gamba se ne va di qua un braccio se ne va di là e poi devono essere portati per forza in carrozzella non si può camminare così e spesso le chiese devono camminare in carrozzella sono paralizzate c'è questa potenza quest'unità ma ci sono le membra che tirano ognuno da una parte che cercano di dividersi come allora si fecero si fece con i vestimenti di Gesù che se li presero e se li divisa si divisero si cerca di fare Cristo a pezzi ognuno se ne prende un pezzo dice il mio pezzo è più grosso come si fa come si fa con le torte buone quando non ci piacciono dice no no prendi tu il pezzo più grande e noi è così quando quando ci sono i lavori secondo noi spiacevoli dice no 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 fallo tu abbassati tu io ho mal di schiena la diventiamo malati diventiamo impotenti quando c'è invece di prendere la gloria cerchiamo di prendere un trampolina di metterci più alti degli altri ma questo è umano però Dio ci sta dicendo queste cose sono per i bambini ma voi volete crescere o volete rimanere bambini o cristiani carnali il che è lo stesso c'è cristiani quindi sì con una vita nuova dentro ma con un dominio della loro carne sul loro spirito allora è bello essere bambini per un tempo ma poi Dio ci dà degli alimenti tali per farci crescere ci fa passare un cibo solido per essere in grado veramente di maturare e quindi dicevo questo concetto del corpo è un concetto importantissimo che è lo spirito santo io voglio dopo qualche altra parola fermarmi dare eventualmente spazio a qualche breve domanda ecco su questa prima esposizione dicevo il corpo è un concetto fondamentale nell'economia di Dio siamo stati inseriti in uno stesso corpo apparteniamo gli uni agli altri tante volte certamente io incontro delle persone che non si piacciono come corpo dice mannaggia se non avessi questo naso vorrei un altro naso e tante volte noi anche nel corpo vorrei un altro fratello un altro sorella un altro responsabile questo non mi piace facciamo un po' di chirurgia plastica tagliamo il fratello con Alessandro tagliamo il naso di Alessandro tagliamo Alessandro direttamente leviamo questo dente è cariato e così via noi abbiamo un problema tante volte non non impariamo ad amare subito il nostro corpo eppure anche nel livello fisico Dio vuole poi che abbiamo una buona relazione con il nostro corpo ci sono persone che fino alla loro morte continueranno a dire no ma io non volevo le orecchie così ma perché queste orecchie questi occhi questo naso questa bocca eccetera eccetera ma un segno di maturità psicologica e anche spirituale è quella di capire che ognuno di noi ha delle caratteristiche ci accettiamo così e non cerchiamo di imitare o di essere qualcun altro o di rifarci i connotati come avviene lì dove si bada semplicemente all'esteriore chirurgia plastica siliconi vari eccetera eccetera no accettiamo la nostra particolarità e così Dio ci dice di accettare le membra del corpo persone riscattate salvate nostri fratelli accettarli nella loro diversità accettarli non colpi di accetta qualcuno aveva già pensato se io lo accetterei volentieri accogliere e sapete perché perché poi se andate a studiare in Corinzi l'essenzo del corpo voi vedete che l'onore che ha un membro se noi entriamo nel concetto dell'unità e del corpo non è che la mano dirà ah ma non è giusto non è giusto che tu hai preso le carezze dirà la guancia tu prendi le carezze io invece devo fare tutti i lavori più a parte che la guancia gli dirà ogni tanto prendo anche pure gli schiaffi quindi no ma capite bene che l'onore la sofferenza il dolore la gioia di ogni membro diventa automaticamente il dolore la gioia l'onore la gloria di tutto il corpo è una logica diversa fratelli se noi non entriamo in questa dimensione spirituale noi non lo capiremo mai tu sei alla mia sinistra io faccio sempre esempio con te qua non c'ho nessuno come a dire se lui prende una botta diremo alleluia l'ha preso lui questa c'è c'è qualcuno dico cioè se qualcuno prende un danno noi diremo gloria a Dio per questa volta è stato colpito lui o se lui prenderà una gioia diremo mannaggia ma perché tutte a lui le cose buone capite bene quando non riusciamo a comprendere il senso del corpo noi entreremo in questo tipo di ragionamenti ma se attraverso il rinnovamento perché c'è tutto un collegamento questo capitolo se dovessimo studiarlo non basterebbero tre convegni tre conferenze c'è un collegamento ma se noi entriamo nel rinnovamento della mente se noi entriamo nella volontà di Dio noi scopriamo il senso del corpo se noi scopriamo il senso del corpo scopriamo che il corpo funziona in unità e che se una parte del corpo è onorata tutte le altre membra sono contente godono non dico non è giusto che lui è onorato e in tutti questi sensi i piedi potrebbero dire ma perché mannaggia ma perché noi dobbiamo avere sempre questa funzione assurda di camminare e poi parli sempre tu bocca ma sta di zitta facci parlare a noi e infatti tante volte si parla con i piedi ma è così ma se i piedi capissero che la loro è una funzione fondamentale anche se nessuno li guarda no non è nessuno Gesù andò a lavare i propri piedi ai discepoli e le membra che sembrano con meno onore naturale sono quelle più circondate dall'onore e dalla cura di Dio ma capitemi questo ci illumina un concetto differente ci fa capire che non ci sono mansioni o ruoli più importanti ma ci sono semplicemente diversità di ruoli e di mansioni e ci fa capire che l'onore poi di chi parla di chi presiede diventa l'onore di chi pulisce dice no no io non ci sto io preferisco presiedere facciamo pulire gli altri le pulizie le faccio già a casa è così invece no se noi riuscissimo a entrare in questa mentalità voi non avreste idea di come non avrete idea di come il corpo acquisisce una forza una potenza una gloria grande e dove nessuno dice io vorrei essere al posto di dove la mano non dice io vorrei essere al posto dello stomaco nello stomaco al posto della testa ma dove ognuno trova il proprio ruolo e insieme tutto il corpo ne trae una potenza una capacità di relazione e allora come corpo ed è quello che Dio sta facendo in quest'ultimo periodo ma i piccoli esperimenti sono proprio nei gruppi poi si allargano negli incontri interconfessionali si allargano ancora più ma i piccoli esperimenti sono proprio nei gruppi Dio vuole presentare capitemi la sua chiesa il suo corpo al mondo ma come fa a presentarla quando un pezzo sta tirando di là un altro sta dietro e dice no vado io no vado io no sono io no io sono chiesa no io sono mamma mia dice no aspetta se presento questa situazione Dio dice aspetta si metteranno le mani nei capelli il mondo Dio sta preparando una chiesa pura santa sta preparando una chiesa capitemi già noi ci presentiamo al mondo ma Dio sta preparando un ingresso forte grande un poco così tipificato da quello che si fa per il giubileo del 2000 sta preparando un ingresso e credo che il santo padre il papa abbia compreso bene questo concetto infatti nella ut unum sinte non so chi di voi ha dato un'occhiata a questa enciclica c'è una grande riflessione sull'unità del corpo sul riconoscere l'opera di Dio negli altri e questo allarghi raggi ma noi abbiamo bisogno di farlo a piccoli raggi nel nostro piccolo piccole cellule piccolo gruppo ma in un progetto più grande in cui Dio vuole presentare un corpo non vuole presentare uno sfascio una chiesa indicappata una chiesa che tira da tutte le parti ma vuole presentare un corpo unito e quando questo progetto di Dio che sta passando attraverso quindi una crisi ma anche una ricostruzione di equilibri sarà espresso voi vedrete che il mondo avrà un impatto fortissimo perché vedrà un corpo non vedrà un ammasso di membra un mosaico tutto scomposto dove un pezzo è qua un pezzo è là dove la testa dice no io voglio essere qua non vedrà un mostro ma vedrà un corpo e questo sarà una testimonianza fortissima l'unità fratelli è una testimonianza fortissima